Ciao ragazzi In questi giorni ho saputo che in via dei Platani 17 a Paperopoli si vende una casa molto molto speciale Non appena l'ho saputo mi sono subito precipitato a vederla Guardate qui ho anche le planimetrie Qui abbiamo il piano interrato Poi c'è il piano terra e il primo piano Ragazzi è la casa di Paperino A me è piaciuta tantissimo E sono sicuro che piacerà molto anche a voi E quindi venite con me che ve la faccio vedere Prego venite entrate Qui ci sono qui coquà che giocano in giardino Poi abbiamo la 313 di Paperino E qui la maca dove adesso Paperino sta riposando Entriamo in casa Entrando in casa a sinistra abbiamo la cucina Qui abbiamo il tavolo apparecchiato con le sedie dove pranzano Paperino e qui coquà Qui abbiamo il frigorifero Tutta la cucina Con piano cottura, forno e lavandino A destra dell'ingresso troviamo il salotto Che ha un divano, la televisione e un tavolino Subito di fronte all'ingresso troviamo le scale che portano al primo piano Appena saliti a sinistra c'è la cameretta di qui coquà Troviamo i 3 lettini La scrivania Le 3 sedioline Il computer portatile E poi la scatola dei giochi Guardate i 6 cassettini della scrivania Con tutti e 3 i colori di qui coquà Qui abbiamo il bagno con la vasca e il lavandino E poi entriamo nella camera di Paperino Oh ecco Paperino si è svegliato C'è il suo letto con il comodino e un armadio Che non è un vero e proprio armadio È un ascensore segreto perché guardate Paperino entra nell'ascensore Ma dove porterà mai questo ascensore? Dietro la casa c'è un meccanismo che porta l'ascensore In una stanza segreta Nel covo segreto di Paperino Dove lui si trasforma in Paperinic Qui c'è il super computer Qui il costume di Paperinic Qui le sue maschere Adesso Paperino indosserà il suo costume E si trasformerà in Paperinic 3, 2, 1 Ed ecco a voi Paperinic pronto all'azione Qui c'è la sua 313X Nel tunnel sotterraneo E qui di fianco al covo segreto di Paperino Troviamo la cantina Con un baule Dei sacchi E degli scatoloni C'è anche una stufa Ed eccola qui La casa di Paperino Guardate che bella Se vi piace potete averla anche voi Perché sarà disponibile in edicola dal 16 marzo Insieme a Topolino Sono in tutto 6 uscite E sarete proprio voi a costruirla Infatti guardate Si divide in vari pezzi Nella prima uscita trovate Il piano terra Il giardino Amaca esclusa E Paperino E nelle successive uscite Trovate il primo piano Col tetto Giustamente Il seminterrato La 313X E la 313X L'amaca Tutti i vari personaggi Quindi Quipo qua Paperino da sdraiato Sulla maca E Paperinic Vi faccio vedere Vi faccio vedere Una particolarità Delle macchinine Il pezzo di sotto Che comprende le ruote È intercambiabile Adesso ve la rimonto velocemente Guardate quanto è semplice Ed eccola qui Tutta intera Cancelletto L'amaca Il tetto Che si apre Primo piano Piano terra E Seminterrato Così Una volta prese Tutte e 6 le uscite Come me Potrete avere La casa Di Paperino Completa Che non è solo Un giocattolo Che potete Conservare Nella vostra Collezione Di giocattoli Preferiti Ma potete divertirvi In famiglia E inventare storie Con il papero Più famoso Al mondo Potete inventarvi Storie divertenti Con qui Quo Qua Mentre combinano Pasticci In giardino Disturbando Zio Paperino Che dorme Oppure Preparare Un bel pranzetto Tutti insieme E mangiare In compagnia O guardare Un bel cartone Animato Seduti Comodamente Sul divano Magari Organizzare Dei giochi Con qui Qua Mentre sono Nella loro Cameretta Un bel bagnetto Dopo aver giocato Tutto il pomeriggio In giardino Oh guardate Sono i loro lettini E stanno riposando Dovevano essere Proprio stanchi E proprio ora Mentre i nipotini Stanno facendo Il loro riposino Pomeridiano Paperino Potrebbe approfittarne Per prendere L'ascensore segreto Nascosto Nell'armadio E organizzare Missioni incredibili Nel laboratorio Sotterraneo Ed ecco Paperinica Il suo computer Che sta progettando Una super avventura Quale maschera Indosserà Nella sua missione Il nostro supereroe È pronto All'azione Nella sua 313X Cosa Troveranno Qui Qua Nel vecchio Baule Nella cantina Di zio Paperino E dove Vorrà mai andare Paperino A bordo Della sua 313 Vi lascio Qui sotto Nell'infobox Tutte le informazioni E mi raccomando Entrate E giocate Anche voi Nella casa Di Paperino Non perdetevela Io ne dico La del 16 marzo Ciao ragazzi Swoosh Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi